Signore, benedici ora questi anelli di Luziano, gli sposi. Signore, benedici ora. 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 Dobbiamo incoraggiare un po' gli sposi per il loro primo balo di parole sposi. Signore, benedici ora. e bine ati venit la questo minunato evento la petrecerea di niente a frumosilor Adriana e Luca Grazie a tutti Grazie a tutti